Sono molto contenuto, perché stai a 73 ore di inizio di... Ma adesso faccio 7,5... Io ho mai 0,99... Ci ho messo anche molto, tanto di 0,99... Purtroppo, per esempio, facendo questa annunzione, perché tante cose che dirò, è una situazione un po' particolare, perché, per fare, purtroppo, delle annunce dissonanti, con le nuove, utrici, nuove, utrici, grandi, eccetera... Io, che nel mio piccolo ticello dell'edicola mi trovo a vedere libri sostanzialmente economici, in questo limite, mi sono stato proprio fagocitato, si può dire, dalla libreria che mi ha anche sottratto autrici che magari erano nati in edicola, un Open Tutute, Silvia Dei, che aveva pubblicato 4 extra fashion, poi, però, scoppiato il fenomeno, 50 funture di crimine, è stata un fuori da Silvia Green, sull'arte a scala, e così come lei, la tutrice che stava anche per pubblicare i piccolari economiche, è stata autostrada e quindi, diciamo, che devo arrangiare con quello che mi lascia la libreria, no? Grazie!